In questo video vi spiegherò come richiedere e trovare l'estratto conto PostPay Inoltre, se siete interessati a leggere l'articolo piuttosto di vedere questo video allora cliccate nel link in descrizione per leggere l'articolo completo Nel sito potrete anche trovare tanti articoli e le migliori carte propagate dell'anno Adesso andiamo dritti al punto del video Per i tantissimi che possiedono un conto in posta è possibile associare una carta PostPay, PostPay Standard, PostPay Evolution Non tutti sanno però che anche di queste prepagate è possibile visualizzare l'estratto conto con diverse modalità E perché è importante? L'estratto conto della PostPay riporta tutte le operazioni fatte con la carta in un certo periodo di tempo e quindi ci permette di monitorare tutti i soldi in entrata e in uscita le spese più frequenti, i costi che possiamo tagliare e insomma ci consente di tenere meglio sotto controllo i nostri soldi Inoltre, ci consente di capire le commissioni applicate i costi nascosti di cui spesso non ci accorgiamo e quindi se la prepagata è economica rispetto alle altre Ancora non siamo convinti dell'importanza di vedere l'estratto conto a PostPay? Allora diciamo subito che se dovessimo fare il calcolo ISEE diventerebbe necessario perché è fondamentale per il calcolo della giacenza media Se ormai abbiamo capito cosa è e perché è così importante vediamo ora come si ottiene l'estratto conto della PostPay Buone notizie per i possessori di questa carta Oltre a possedere un estratto conto è visualizzabile in diverse modalità la PostPay Evolution Online, in un ufficio postale o al postamat, ovvero lo sportello Ovviamente per le persone poco informatizzate che non utilizzano bene le funzioni online il consiglio è quello di chiedere l'estratto conto della PostPay a uno sportello dell'ufficio postale dove un operatore saprà guidare al meglio tutte le operazioni Oppure, se si ha meno tempo, si può recare presso un postamat e cercare tra le voci elencate quella per vedere l'estratto conto della PostPay PostPay standard Purtroppo per questo tipo di prepagata non è previsto l'estratto conto Se quindi dobbiamo ricavare il saldo e i movimenti di un certo periodo dobbiamo richiedere l'estratto conto della PostPay direttamente in un ufficio postale Comunque, prima di uscire di casa e prendere il numeretto in posta è opportuno sapere che da internet si possono comunque visualizzare gli ultimi movimenti e il saldo attuale Ma comunque ricordiamo che questo non è l'estratto conto della PostPay Come vedere l'estratto conto PostPay online? I più avezzi della tecnologia potranno scaricare l'estratto conto della PostPay Evolution online attraverso il sito di poste italiane o attraverso le app dedicate Le uniche cose che servono Una carta prepagata attiva Una connessione internet disponibile e un dispositivo smartphone, tablet o pc per visualizzare il tutto Vediamo quali sono le azioni da compiere Registrarsi sul sito di poste italiane con le proprie credenziali Si clicca su area personale in alto a destra e si inseriscono tutti i dati richiesti A questo punto si riceverà un codice di attivazione attraverso un sms Un consiglio? Conserva sempre le credenziali in un luogo sicuro per eventuali accessi futuri Anche se, in caso di smarrimento, è possibile recuperarli dal sito A questo punto si può effettuare il login con le proprie credenziali e verrà richiesto di scegliere una domanda segreta per recuperare la password in caso andasse persa L'operazione è quasi completa Ora basterà andare su accedi ai servizi post pay e scegliere l'opzione visualizza estratto conto post pay dal menu Altri vantaggi dell'app di poste italiane Oltre a vedere e scaricare l'estratto conto della post pay evolution online o dalle app è possibile fare anche molte altre operazioni Si possono fare bonifici, ricariche di altre post pay, gestire più carte simultaneamente ma anche pagare bollettini utilizzando la fotocamera del telefono o tablet Inutile parlare del risparmio di tempo Vi ringraziamo per aver visto questo video e vi ricordiamo che nel link in descrizione troverete il link al sito in cui potete leggere l'articolo di questo video Potete anche vedere tanti altri articoli sulle migliori carte prepagate e carte di credito disponibili per il mercato italiano al momento Ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti